La Geasar, società di gestione dell'aeroporto Olbia Costa Smeralda, è stata riconosciuta come una delle 240 imprese italiane leader della sostenibilità 2024. Secondo l'indagine condotta dal Sole 24 Ore è statista. La Geasar è l'unica società in Sardegna inclusa nella prestigiosa classifica, che si aggiunge alla recente conferma della certificazione a livello 3 optimization del programma Airport Carbon Accreditation di ACI Europe. In ambito sociale la Geasar ha investito in maniera importante nella formazione del personale, con una media di 74 ore di formazione per dipendente. In quello economico l'aeroporto ha registrato una crescita del 54% rispetto all'anno precedente. In ambito ambientale poi la Geasar, oltre gli sforzi per l'abbattimento delle emissioni, ha lavorato su procedure che hanno portato a raggiungere un tasso di riciclo dei rifiuti pari all'82%. In ambito internazionale, nel settore specifico aeroportuale, Geasar ha inoltre ottenuto la conferma della certificazione che allinea l'aeroporto di Olbia alle best practice internazionali in termini di abbattimento delle emissioni di CO2. Siamo particolarmente orgogliosi di essere l'unica società in Sardegna a essere inclusa in questa prestigiosa lista, ha dichiarato Silvio Pipobello, amministratore delegato di Geasar e Sogeal. Questi traguardi non sarebbero stati possibili senza la dedizione dei nostri dipendenti e la collaborazione dei nostri stakeholders.